Per evitare buchi e smottamenti, l'auto invade la carreggiata opposta, l'altra che viaggia in senso contrario riesce a fermarsi in tempo. Quella che avete appena ascoltato e soprattutto visto è la cronaca di una criticità ricorrente lungo un tratto della provinciale 61, la Cerasito-Duronia. L'asfalto andrebbe evidentemente rifatto. L'ultimo intervento risale a dieci anni fa, lamentano alcuni residenti. Senza manutenzione e con l'insistenza di un fenomeno di dissesto idrogeologico, quella importante arteria è costellata di buche, talvolta profonde oltre i 20 centimetri, sbalzi e fenditure. Inoltre la cattiva o assente manutenzione delle cunette fa riversare sulla carreggiata detriti e fango. La situazione, soprattutto all'altezza della borgata Santa Maria, a cui si riferivano le immagini iniziali, è a dir poco precaria. Soprattutto è a rischio la sicurezza degli automobilisti. A proposito di rischi, c'è anche quello relativo alla chiusura dell'arteria, l'unica che assicuri il collegamento tra Duronia e Frosolone. A qualche chilometro di distanza è già accaduto. Lì una frana lungo la provinciale 46 Molisina, nei pressi della Contrada Valloni, ha causato l'interruzione del collegamento con il comune di Molise. Insomma, urgono interventi urgenti di ripristino, ma l'ente preposto, la provincia di Campobasso, è silente, con il sindaco Michelino D'Amico che fatica a spiegarsi il perché. La provincia non c'è nessun riscontro perché noi, se le dico che dopo quattro anni sono riuscito a far decespugliare l'anno scorso la strada, ma io credo che sia anche una questione di manutenzione, sia anche una questione perché noi siamo a cavallo della provincia tra i Serni e Campobasso e forse non siamo considerati e siamo lasciati abbandonati a noi stessi. Noi stiamo parlando della SP Cerasito-Duronia, ma se vediamo la SP Molisina, che è una strada importantissima per quest'area perché conduce alla zona industriale Fresilia e poi da lì si mette sulla Fondovalle Rivole e ci permette di raggiungere Campobasso in 25 minuti, sicuramente va attenzionata e va data grosso rilievo. Anzi, devo dire che veramente ultimamente il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture si sta interessando a questo dissesto idrogeologico, ma secondo me va fatta la manutenzione, va fatta la segnaletica strada e qui quando c'è la nebbia non si vede niente.